Presidente, una nuova sede per l'Unione Maestranze, proprio attigua alla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio e quindi un'opportunità in più per i vostri gruppi di avere un punto di riferimento. Beh, sicuramente sì, è una sede prestigiosa e tra l'altro un vecchio desiderio che io avevo perché nel 1995, quando rivestivo altro ruolo, avevo fatto un emendamento proprio in provincia per poter aver assegnato una sede per l'Unione Maestranze. Adesso, dopo 30 anni, finalmente siamo riusciti lo scorso anno, attraverso un bando, ad aver assegnato una sede prestigiosa ma la cosa importante, oltre alla vicinanza con la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio è che questa sede, per un ridimensionamento e chiaramente dei costi, permette all'Unione di avere un bel risparmio durante tutto l'anno per la gestione della sede. È una sede sicuramente prestigiosa, ha delle caratteristiche particolari e può essere sicuramente, anzi lo deve essere, punto di riferimento per i gruppi per poter organizzare anche attività che possono essere collaterali, convegni, momenti di approfondimento, momenti di studi. Vogliamo ricordare che la sede, questa nuova sede, è nel Palazzo della Ex Vicaria l'ingresso è laterale e verrà inaugurato. Domenica pomeriggio alle ore 16.30 l'ingresso è sulla via Cassaretto ed è una cosa importante perché abbiamo un ingresso completamente autonomo, completamente indipendente io colgo l'occasione, semplicemente, di fare un appello anche ai residenti della zona cerchiamo un attimino tutti assieme di far rimanere questo posto pulito, ordinato senza le macchine davanti ai gradini per l'accesso alla sede anche perché io so che l'amministrazione comunale si sta attivando per mettere un divieto di sosta con rimozione.